L'uomo deve leggere per capire tutto quello che c'è stato prima, perché il patrimonio della lettura è una specie di grande archivio collettivo in cui è doveroso attingere, per sapere cosa c'è stato prima, per capire il presente e per indovinare il futuro, per cercare di migliorarci nel futuro. Io credo che il sapere, oggi si crede che si possa acquisire il sapere solo dal contemporaneo, il sapere a mio parere è solo archeologico, nel significato etimologico della parola, cioè bisogna leggere il passato per poter conoscere il presente e eventualmente dire qualcosa sul futuro. Da ragazzo ero un grande macinatore di romanzi e mi è rimasto nel cuore guerra e pace, ma tanto per dire qualcosa insomma. La mia è una risposta invece precisa perché è un libro che ho tradotto e che ha attraversato tutta la mia vita ed è il Moby Dick di Herman Melville, dove c'è tutto il mondo.